E' determinante, ce lo dicono ormai tutti gli indicatori, l'economia del futuro sarà l'economia sostenibile, in particolare in agricoltura e anche nel settore della vinicoltura. Quindi capire oggi che la sostenibilità è indispensabile non solo per la salvaguardia del nostro ambiente, questo sarebbe già sufficiente, ma anche per rendere più competitive le nostre imprese nei prossimi anni è determinante. Il Marchio Viva dice questo, dice agli imprenditori incominciate a investire sulla sostenibilità delle vostre aziende, non solo del prodotto, delle vostre aziende al fine di renderle più concorrenziali nella nuova economia. E' un Abruzzo dunque che fa un passo avanti? L'Abruzzo ha reagito bene a questo stimolo e sono molto soddisfatto, molte altre regioni stanno seguendo l'esempio dell'Abruzzo, ma che l'Abruzzo sia in prima linea è un bel segnale. Grazie a tutti!